Presentato presso la chiesa madre del cimitero consortile, il saggio dedicato alla famiglia Rocco. Il testo, redatto da Ludovico Silvestri e Giuseppe Pesce, racconta la storia dei fratelli Rocco, Giovanni, Gennaro, Nicola e Giuseppe, quattro signori casoriani vissuti nella metà dell'Ottocento. I nomi dei fratelli Rocco sono stati inseriti nella lista degli uomini illustri, cui personaggi che nella loro vita si sono distinti per le proprie azioni e idee e le cui spoglie riposano o hanno riposato all'interno del cimitero consortile dei comuni di Casore, Arzano e Casavatore. Un'apposita commissione storica, nominata dal Consiglio del cimitero consortile, diretto dal dottor Salvatore Grazioso, si è occupata di redigere la lista degli uomini illustri. La commissione è presieduta dal professor Francesco Iorio, al quale hanno partecipato i magistrati Maria Francica e Francesco Ciocia. I fratelli Rocco sono stati scelti dalla commissione per la loro attività di giuristi e magistrati e per l'alto valore istituzionale del loro lavoro, ritenuto fondamentale per la storia del diritto anche oltre i confini cittadini e nazionali.